E' ecco la nostra campionessa MJ Watson! Scala le classifiche con il Turbo Demone! Proviamo le altre giostre e i giochi più avanti. Se ci diamo dentro, possiamo vincere un premio! Sì, avevo letto un giro. Spero che il Turbo Demone sia spaventoso come lo ricordo. Strambo. No, non dargli corda, MJ. Ha solo paura. Sai che mi imbarazza a soffrire di vertigini? Sei pronto, Pete? Più pronto di te, amico. No, si fa sul sé. Avanti! So che avete voglia di fare due... Il re della lunetta? Non sapevo che ti piacesse il basket, Harry. Con l'energia che mi sento addosso, potrei fare di tutto. Wow, eccolo! Sì, tagli una lezione, Pete! Entra! Sì, andiamo! Meno una. Ops. Ah, qua è chiuso. Ok, abbiamo promesso di non parlare della noiosa vita di tutti i giorni, ma... Time out! MJ, devi venire alla EML. E dà un ufficio tutto suo. Lo so che dovrei. Ma sono troppo impegnata nel cercare di impressionare Joe. Il suo capo. Aspetta, intendi... Di quando ci pensi? Sì. Biscidone montato di giorno. Lui che dà ordini a te. Sì, se non voglio perdere il lavoro. Serviva proprio uscire. Pronto a mettere alla prova il nostro amore. Che dite? Go-kart? Tu al volante? Io passo. Andiamo, piccioncini. Ci aspettano altre sorprese nel parco. Tranquillo, ti aiuto. Quello è... Tombstone? Ma che ci fa qui? A guardarlo direi... Il meccanico. E... Il soccorritore. Grazie di avermi tirato fuori. Me la sono vista brutta. Magari... Proviamo le montagne russe. Che ne dite? Tombstone? Misterio? Questo parco è una calamita per criminali redenti. Sì. Forza! Ci aspettano ancora altre meraviglie sul piale dei ricordi. E' meglio. Cos'è stato? Chi la lancia? Ah, niente da fare. A qui non si passa. Ti è in corso. Dai! Voglio setermi in primo filo. Rego? Che gentil'uomo. Cosa c'è? Sono nervosa. Tranquilla. Tanti probabilità c'erano che la ragazza a cui Harry ha regalato il premio capitasse proprio accanto a lui. Già, si apre un mondo di cuori a Ercobalini. Lo proviamo questo amorometro alla fine. Perché? Beh, sembra che Harry potrebbe avere un amore delizionale. Che vi sbagliate voi due? Stavo solo ricordando a MJ di tenere sempre le mani dentro al vagone. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! C'è qua, si fa un bel interessante la storia. Alzi le mani con l'unbre. Ho! 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 Ahahahah! 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 Oh, è stato un epico! Vero? Non mi ci volevo proprio. Ok, guardi leone. E adesso? È l'ora del gran finale. Il super super. Puoi dirlo forte, baby. Non sono mai arrivato alla campagna. Ma è proprio per questo. Forse è l'anno giusto. Tu, tu, tu. Avete visto la sua faccia? Com'era incazzata! È stato fantastico! Ma che ora dobbiamo essere così? Oh, certo. Andiamo, Joey. E qua. Cosa vuole l'ammiratore segreto? Chi? Jonah? Niente. Neanche una parola, signor Tv. Ma come fai per lavorare per me? Perché non troviamo qualcosa da pantiare? Non abbiamo trovato. La andiamo, c'è l'esercita? Mi sta solo un fanno di soldi. No? Io non prendo il nostro. L'ultima volta ho avuto la prima. Su per su. 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 Ok, ok. No, la casa stregata è chiusa. Ah, salvato dalla manutenzione. Benvenuti! Chi vuole cominciare? Pete, forza! Bene! Facci piano, Ellie. Non farti male. L'unico a farsi male sarà il tuo orgoglio. Ragazzi, fate i bravi. Come? Scusa. Mi ha distrutto. A quanto pare è proprio l'anno giusto. Harry è... Nella fine del mondo. Sì, io non... Non so come ho fatto. Ok, vi va qualcosa di più tranquillo? Alla ruota panoramica c'è meno fila di prima. Qua. Cioè, l'ha distrutto. Ehi, ti lascio andare avanti a fare i teneroni. Voglio vedere se riesco a vincere un altro paio di unicorni. Sembri davvero felice. È strano. Harry ha una seconda occasione e sento quasi di averla anch'io. Voi sarete una squadra incredibile. Eh? Un posto del bugle? Jonah ti ha messa in prima pagina. Sarai il caporedattrice. Ci voleva lo champagne. Cacciatori, scorpioni ed esplosioni. Oh cielo. Ha pubblicato il pezzo del tipo 1. Ah, MJ. Ha già raggiunto 5.000 visualizzazioni. Dovevo scrivere di un'altra cosa. Così che si fidasse. In qualche modo. Ehi, ti inventerai qualcosa. Lo fai sempre. Grazie. Figurati. E se mai volessi una mano dal tuo amichevole Spider-Man di quartiere, anche noi saremmo una squadra incredibile. Anche se ho dimenticato lo champagne. La prossima volta. E' andato di qua. Via da qui! Ecco Tombstone. Tombstone. Mi salve. Gli sgherri di Krabben, eh? Che criminale state cattando questa volta? Misterio? Tombstone? Non fatevi distrarre la raggia. Prendetelo! Ti ho il via. E che vinca il ragno migliore. Sapevo di provarlo al giro. Vai. E' entrambi il giorno fortunato. Jay, l'hai trovato Harry? Ancora no, ma ho visto misteri. Un seri di Krabben, non mi sembra interessanti. Prendetelo. Per niente. Quindi vogliono solo Tombstone. Grazie per la dritta. Sì. Continuo a cercare Harry. E' nel tirino! Sapete, voi cazzatori, non avete freni! Ehi, l'autoscontro è in un'altra parte del parco! Possiamo rimandare! Questo non è un buon momento! Il ragno è a terra. Pensate a tutti. Sto arrivando, Longhi! Quelle reti non scherzano! Facciamo fuori il ragno. Sto, a noi di noi! Gli sgherri sono a far mio, Tombstone! Pensa solo a rompere quella rete! Non credevo che un giorno mi avresti difeschi. Neanch'io, Lonnie! Ma il capo di questi ceppi ti vuole morto! E' un cacciatore e i supercriminali sono le sue prede! Che dici? Tre chiacchiere sulla svolta che ho dato alla mia vita ti farebbero cambiare idea? Ha già ucciso Scorpion! Quindi direi di no! Facciamo fuori il ragno! Una volta per tutte! Ti hai provato, Spidey! Ma stavolta siamo pronti! you! You! Um! Uf! Oh! 'rep! Ah! 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 È sottofielo! È sottofielo! È sottofielo! È sottofielo! Sono spostati! Siete finiti? Vogliatevi mezzo al ragno! Adesso! Ti aiuto io, Lonnie! Vai! Non cadere, non cadere, non cadere! Non cadere! Devi scusarmi, Lonnie! Vorrei davvero aiutarti! Andrà tutto bene! Non cadere! Non cadere! Non cadere! È sottofielo! Lì ci penso io! Tenetevi! Lì! No! Ok, scappo linea, tutti fuori! No! 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 Aiuto! No! No! Mi scusate! Harry... Vitt! Voi! Ressiustente! Quello era? Sì. Merda. Reggeti. Ok, dobbiamo parlare. Certo che dobbiamo. Spider-Man. Lo so, lo so. Ma prima, cos'è quella roba che spari fuori? Credo sia... la cura che sto facendo. Il Dottor Connors ha detto che è una tuta... che ha la capacità di apprendere il sito. Ma non credevo che... Aspetta. Sai cosa vuol dire, giusto? Abbiamo i superpoteri. Pensa a cosa potremmo fare per curare il mondo! Scusami. Io devo ancora capire bene come faccio. Beh... È un vero peccato che nessuno di noi abbia un laboratorio all'avanguardia dove condurre qualche test. Vado a controllare che sia tutto in ordine. Ci vediamo lì? Chiamami quando hai fatto. Cosa è successo? Beh, eh... Ricordi il mio amico Harry? Sì. Era lui! Ma come? Francamente non lo so. Credo che quelle cure... No, c'è Harry. Devo andare. Ehi, ho fatto sgombrare la fondazione. Ok, faccio un salto. Un salto? Quante volte l'hai detto prima di farlo letteralmente? Ah! Sì, sì, dai! E' inventarci le cose delle palle! Ehi! Ehi, Pete! Guarda qui! Ma... Stai bene? Forza! Vediamo cos'altro può fare questa cosa. Che stai facendo? Scienza, amico! Sto facendo scienza! E così... Sei Spider-Man? Hai detto a MJ, ma... Non ha il tuo amico. Non volevo metterti in pericolo. Io volevo solo... Certo. Sì, capisco. Ehi, il ragazzo a cui insegni... E' lui l'altro. Sono successe tante cose mentre eri in quella vasca. Fidati. Lo so. Calmo e tranquillo. Ops! Già! Preparo un po' di caffè. Si prospetta una lunga notte. Diamine! Si prospetta una lunga notte. Che cos'è successo? Stavamo solo... Stavamo solo... Facendo esperimenti. Dov'è il dottor Connors? Magari è il suo giorno libero? No. Lui non ha giorni liberi. Io... Devo andare. Sì. Sì. Ti chiamo dopo. Hai? Mi sa... Harry ha il superpotente. È successo tutto così in fretta. Io... Aspetta. Cosa? Ehi! Ricevo un segnale strano da uno spiderbot. Ah, anche tu. Genki, stai testando qualcosa? Stavo giusto per chiamarvi, ragazzi. Ne sono apparsi diversi. Usano degli strani protocolli wild. Controllo, vi tengo aggiornati. Pungente. Ora carico i dati sul server. D'accordo. Metteremo gli occhi aperti. Mandami i dati. Quando li trovi, proverò a identificare chi li ha creati. Ehi, notte in bianco. Ehi, MJ. Io e Harry siamo rimasti svegli per lavorare sulla tuta. E abbiamo esagerato con la pizza. È stato forte. Proprio come ai vecchi tempi. Ma dimmi, qual è il ragno radioattivo di Harry? Non avevo mai visto niente del genere. È un... esoscheletro che cancella ogni traccia della sua malattia. Questa volta il dottor Connors si è superato. È incredibile. Bel tempismo, visto quello che è successo al parco. Abbiamo qualche indizio per rintracciare Tombstone? Non ancora, ma mi faccio sentire appena scopro qualcosa. Oh, sei la migliore. Sì, lo so. E adesso? E adesso... batte la pesca. E allora? Connoite la pesca. Come on. Sì, sì. Sì, sì. Siamo soltanto prudenti. Tombstone ci ha messo in difficoltà. Giusto. Occhi aperti. Cacciare per vivere. Vivere per cacciare. Trovare una via d'accesso. Cazzatori ovunque. Se è per causa mia, sono onorato. Ehi, finalmente ho finito con mio padre. Ora non so dove sia il dottor Connors. Era da tempo che non vedevo papà così. Troveremo Connors. Perché non chiami MJ e le chiedi di fare un salto a casa sua? Sì, buone. Ci vediamo alla fondazione appena ho finito qui. Che fai? Mi sape aiuto. Sono Williamsturg, alla vecchia fonderia Steel. Tombstone è prigioniero qui. Sembra proprio un lavoro per lo Spider-Duo. Non è così che ci chiamiamo. E allora come chiamate? Non saprei. Solo... I Spider-Man? Confondiamo. Ora devo andare a questo posto bullola di cacciatori. Ti servono? No, non venire qui. Questa gente non scherza. È troppo pericoloso per te. A dopo. No, in ragione. Non deve intervenire. Mi vuoto. Scateniamoci. Scena il raggio fuori dalla solteria. Difenditi! Volevi nasconderti su quella ciminiera? Questa ciminiera fa proprio al caso mio. Ho appena parlato con MJ. Sta andando a dare un'occhiata da Connors. Molto bene. Già, era solo per sapere. Hai detto Fonderia Steel, vero? Sì. Tu che fai? Cardio. Bravo, continua. Io devo trovare Twimstone prima che finisca con Scorpion. Noi, ci vediamo. Dovrebbero essere finiti Ormai che mi rendiate la vita facile Terry, che cosa ci fai qua? Ti dà una mano, Spider Prego, comando Io volevo passare inosservato Sarebbe colpa mia A sinistra io ho messo Suo bene D'accordo Nova So che è tutto sotto controllo Ma voglio dire, guardaci Sai, speravo di farti iniziare Da qualcosa di più semplice Niente di meglio dell'esperienza sul capo, no? Disposto Mi sento più forte che mai Non montarti la testa Non siamo invincibili Ti è prezzo, colpite Mi senti così ogni volta Non pesto solo i cattivi, sai Ho dovuto prendere decisioni difficili Forte del lavoro Ma vai Attenzione Quello è un lanciafiamme? Non posso usare le ragnatele Dobbiamo trovare un altro modo per fermarlo Attento Sono anche sulle piattaforme Resta fuori dalla linea di tiro E attacca i cacciatori Questa cosa è antiproiettile? Non è il momento per scoprirlo Ci sto provando Corri verso la passerella In arrivo In arrivo Chi sia? Occhio a dove mire Harry Forse ho capito come fermare quel coso Ti ascolto Lassù La masca Io lo distraggo Va lassù Tira Questo passo Ora salviamo un supercriminale Supercriminale è pentito Ma ha comunque cercato di ucciderti più volte Sta provando a cambiare Voglio aiutarlo Travolo Hai una fiducia incredibile nella gente Ok adesso Coraggio dobbiamo colpirli forte e per primi Eccoci Ci siamo Ce n'è un altro? Prendiamolo Sono nostri Tutti arrivano Perché è la fine La situazione precipita Come sempre Non si mette bene Non si mette bene Non si mette bene Con più in arco Volevi colpito Al riparo Forza Ce ne sono Troppi Resisti Non so nemmeno come ci riesco Quella tuta è pazzesca Inizia a prenderci la mano Dovresti tenere un corso Sì, dovrei farlo di mestiere E lo attiro Scappala Tentro l'eroe Attento Sono bloccato Harry, ci sei? La mia testa Dobbiamo muoverci Presto Se stimo fermi forse Non ci vedrà Ma vabbè, ci ho spiegato Sono qui Ancora Lo santo Che è successo alla tua tuta? Non lo so L'allarme mi ha incasinato Almeno ora stai bene Precce, macete, razzi E ora uccelli robot Per non parlare dei cani, robot Cos'altro proverà a ucciderci? Usa quell'arma Non lo so Cyclone Perfetto! Calmo! Affrontane uno alla volta! Sì! Uno alla volta! Grazie, prof! L'atmosfera si sta scaldando, ma dov'è quel tizio? Lasciatemi andare! Qualcosa mi dice che siamo vicini? Occhio! Mi rido sul bersaglio! Sono un oltre! Merda, però... Comincio ad avere qualche dubbio, ho sicuro che possiamo farcela! Ma certo! Siamo lo spider duo! D'accordo! Eccolo, è lui! Qual è il piano? Dovremmo aiutarlo! Io creo un diversivo. Vedi se riesci a liberarlo. Vado! Crescono così in fretta. Ti tirerò fuori da qui, ok? Non puoi. C'è un sistema di difesa. Io lo disinnesco. Che cosa ti avevo detto? Scusa, è il mio primo giorno. Mi serve una mano qui! Torno subito! Ma sono più grandi! Avanti! Ehi, un altro tuffo nel fuoco? Spari battute in un momento simile! Fa parte del lavoro! Salvato dal rai! E' ironica! Sì, a buon rendere! Ah, prima vediamo di uscire! Ma da dove li mandano? Forse li affittano da un'agenzia? Dobbiamo spegnere la fornace! Lazzù! Se sovraccarichiamo la macchina con un refrigerante! Dovrebbe spegnersi! C'è un dolore, scusa. Perdoni. E' finita! Appena in tempo per spegnere la fornace. Ok, ora! Volete ammazzare tutti quanti? Non volevamo, scusa! Non mollano, eh? Neanche noi. Faccantino qui! Non l'avevo notato! Perché la tuta sia ignifuga! Preato te! Così si fa! Non abbiamo tempo per questo! Che facciamo? Picchiamo più in fretta! Picchia più in fretta! Dobbiamo aiutare Doomstone! Forse potremmo indebolire la gabbia! Lee! Tira giù quei supporti! Ah, ma mi matto, ma... Questo è uno dei giorni più belli della mia vita! Forse dovresti uscire di più! Ne restano due! E cos'è fatto questo affare? Non lo so, ma qui crolla tutto! Non ti arrendere! Non sta funzionando! Tieni duro! Dobbiamo tirare giù quei supporti! Sparo! Qui crolla tutto! Finisce male! La gabbia non ne vuole sapere! Passiamo... Passiamo dalla fornace! No! Fa troppo caldo lì! Dai forse hai dei migliori! Scelta difficile, eh? Che stai facendo? Non ti amo, eh? E adesso? Vai! Muoviamoci! Torniamo indietro! Vattene da lì! Vattene da lì! Andiamo! Seguiamolo! Come fai a reggere lo stress? Lo yoga fa meraviglia per la testa. Vuoi morire qui? Muoviti! No, 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 no! Lo abbiamo perso! Niente panico! Presto! Di qua! Harry! Harry! Non posso fermarmi! Di qua! Vai! Non posso aver salato? Un attimo! Vedi se ci hanno seguiti Vado Questo è l'unico problema di rigare dritto Il crimine ti mantiene in forma Ti abbiamo salvato in tempo Agli altri non è andata così bene Quei ceffi non erano un problema E tra l'altro stavano aspettando il loro capo per finire Hai un posto dove nasconderti? Sì E se dovessero tornare? Io sarò pronto E ringrazia quel tuo amico da parte mia Ci vediamo in giro, Spider-Man Pare siano spariti Andiamo anche noi Sì Ehi, bel lavoro comunque Dieci? Io avevo l'impressione di fare solo disastri È vero Ma nel miglior modo possibile Che stai? Aspetta Scusa Devo ancora abituarmi a questo potere Che stile Che vuoi dire? Scusa, non hai... Hai ragione Ma guarda che roba Ora siamo davvero lo Spider-Duo Senti, io torno al laboratorio Voglio vedere se Connor si è tornato Sì, giusto Io ti raggiungo subito Incredibile Mamma Spero non sia perché hai visto un altro millepiedi Ciao 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 Ciao